amiche e amici della loyal t major tv nuovo video tutorial sul nostro canale benvenuti da alessandro oggi parliamo ancora una volta di calcio mercato parliamo di quali sono le tipologie di mercato e soprattutto quelle che sono le regole molto utili che servono a tutti i player partecipanti al loyal t per rispettare in maniera chiara le trattative intanto vi ringrazio per il grande seguito che ci state dando vi invito a mettere un bel mi piace al nostri video e soprattutto iscrivetevi ancora numerosi per non perdervi tutti i contenuti per rendervi partecipo del nostro fantastico manageriale allora tipologie di mercato partiamo facendo chiarezza soprattutto su quello che il più volte citato nei nostri tutorial presenti sul nostro canale valore transfer market che resta sempre il valore base principe dal quale si parte per fare tutte le trattative ovviamente durante le sessioni di mercato che ricordo essere due inizio stagione a metà stagione possiamo comprare giocatori in formato cash con i fanta milioni possiamo fare trattative di scambio con altri player già partecipanti al mercato usiamo il regolamento per comodità il mio collega organizzatore daniele ha preparato sul regolamento una tabella molto chiara molto semplice riassunta in una semplice paginetta che dà la possibilità di una lettura di veloce di quelle che sono appunto le tipologie partiamo dalla compravendita come vedete nella colonna prezzo abbiamo sempre il valore dm transfer market di ogni giocatore che è rintracciabile sul sito transfer market o comunque arrivabile anche dal portale dalla sezione nostro team con il tastino vicino a ogni giocatore possiamo fare un acquisto cash di giocatori standard quindi fascia wg 67 80 di overall sempre andiamo a guardare il valore tm e se il valore tm è uguale o maggiore di 10 milioni sul sito transfer market possiamo applicare anche delle soglie quindi possiamo dare una valutazione a un giocatore aggiungendo fino a un massimo di più 5 milioni e possiamo anche andare a togliere fino a un massimo di 5 milioni poi la trattativa va di per sei gol player con cui la sto facendo facciamo un esempio semplice se un giocatore ha un tm di 38 milioni transfer market di 38 milioni posso venderlo da 33 fino a 43 questo in vendita cash diretta cosa succede però se un giocatore standard del nostro regolamento ha un tm molto basso quindi sotto ai 10 milioni non posso abbassarlo posso solamente alzarlo e posso dargli un valore anche fino a più 10 ad esempio lo scriviamo nella tabella un giocatore che ha un valore di mercato di 6 milioni sul sito transfer market posso venderlo da 6 quindi non posso abbassarlo ma posso arrivare anche fino a 16 milioni giocatori speciali giocatori speciali sono quei giocatori che superano l'overall di appartenenza della nostra fascia di categoria 67 80 quindi da 81 in su sono giocatori acquistabili solo esclusivamente tramite investimenti manageriali quindi vi rimando al tutorial degli investimenti manageriali per poter approfondire il discorso di giocatori speciali giocatori che possono essere faccio un esempio ad esempio de bruin che ha un valore o velo l'attuale di 84 85 quindi giocatore di potenziale molto alto se il tm di questi calciatori e di 50 milioni o maggiore di 50 milioni le regole sono le stesse si applicano le soglie di più o meno 10 però e non più o meno 5 rispetto al giocatore standard quindi un tm 55 milioni ad esempio lo posso vendere da 45 fino a 55 molto semplice più o meno 10 cosa succede però se questi giocatori ed esistono sul nostro database hanno un tm che è minore ai 50 milioni ad esempio attualmente il giocatore morata vale 20 milioni e c'è l'esempio la soglia non cambia sempre più o meno 10 per i giocatori speciali ma dobbiamo aggiungere quello che è la metà del valore che abbiamo fatto nel momento dell'investimento manageriale sappiamo che per gli giocatori speciali bisogna acquistare un ticket speciale ogni overall ha un valore differente di fanta milioni in questo caso stiamo facendo un esempio su un giocatore come morata che è un vg 81 dovrà andare ad aggiungere metà della sua priorità del valore della priorità e quindi avere un valore transfer market che cambia e aumenta quindi un tm 20 vg 81 facciamo vg 82 dove il valore della priorità è di 100 milioni metà della priorità vale 50 di conseguenza il tm del giocatore diventa automaticamente 70 e date le soglie più o meno 10 potrò venderlo da 60 fino a 80 quindi gli acquisti cash che sono ovviamente molto molto presenti all'interno del nostro manageriale hanno queste quattro tipologie insomma sono molto semplici ci sono delle toglie delle soglie da rispettare e poi non ci sono limiti alla fantasia cosa diventa un po più qual è la parte più corposa la parte più corposa sono quelle degli scambi perché ovviamente quando si vanno a scambiare dei giocatori giocatore per giocatore alla pari con il conguaglio più soldi meno soldi quanto devo dare bisogna sempre tenere che abbiamo voluto nel nostro regolamento inserire delle regole chiare sulle soglie su quanto sono le differenze di vg di potenziale dei giocatori da rispettare perché perché per semplificare tutte le trattative di scambio con pagamento di cash l'operazione da fare prima sempre la differenza di transfer market quindi quando io voglio fare uno scambio la prima cosa è capire la differenza di transfer market fra i due giocatori fondamentale e poi ovviamente volendo posso andare anche a considerare quella che è la differenza di vg perché dico volendo perché non sempre questa è obbligatoria partiamo dai casi molto più semplici quindi quando e lo indichiamo nella prima parte ve lo evidenzio quando due giocatori che vogliamo scambiare hanno lo stesso valore di overall 180 per 180 78 per 78 e via dicendo in questo caso per facilitare e fare in modo che la trattativa si possa mettere in carreggiata in maniera molto più semplice abbiamo deciso che gli stessi vg possono essere scambiati anche alla pari a differenza di tm è opinabile o comunque è una cosa facoltativa che in base di due player ci si può mettere d'accordo faccio un esempio due giocatori 79 uno ha un valore tm di 45 milioni uno di 12 posso anche scambiarlo alla pari certo è ovviamente che il giocatore in possesso del il player che ha il giocatore in possesso del tm 45 potrebbe chiedermi la differenza ed è giusto magari in alcuni casi che questa venga chiesta cosa cambia però quando il vg inizia ad avere una certa differenza scambiare ad esempio un 78 per un 70 un 77 per un 78 e così via impone l'obbligo quindi entra in gioco l'obbligo del pagamento della differenza tm quindi come vedete c'è una parte facoltativa ci può essere una parte obbligatoria diventa facoltativa la pagamento della differenza degli overall signori noi diamo un valore all'overall ogni overall ha un valore che va dai 5 ai 10 milioni e bisogna tenerne sempre conto nelle trattative ci si mette d'accordo è ovvio che se io vado a chiedere a un mio concorrente o a una collega player del mio manageriale un giocatore che ha due vg superiori al mio dovrò aspettarmi che lui possa chiedermi anche il pagamento dei due overall di differenza perché la potenza dei due giocatori ovviamente nel gioco è differente in questo caso abbiamo messo qui un esempio un giocatore 79 tm 45 quindi 45 milioni transfer market cambiato per un vg 80 quindi un overall in più con tm 50 in questo caso i 5 milioni di differenza sono obbligatori dei due transfer market quindi diventerà facoltativo i 5 da 5 a 10 milioni quell'overall di differenza che il player acquisto chiedendo il giocatore potrebbe anche chiedermi o io eventualmente fossi il proprietario del vg 80 potrei andare a chiedere quindi riassumendo brevemente due tipologie di scambi molto importanti e molto frequenti scambi alla pari o scambi con pagamento della differenza di transfer market entra in gioco il facoltativo e il pagamento dell'overall di differenza qualora vado a scambiare giocatori con overall differenti di uno o di due vg non di più entra in gioco in base alla trattativa il valore di overall che viene dato da parte nostra è quello dai 5 ai 10 attenzione però ci sono dei casi particolari esistono tipologie di scambi con tre o addirittura 4 vg di overall di differenza e qui ovviamente cambia di molto quello che è l'aspetto della della trattativa perché scambiare un 76 con un 80 vuol dire anche mettere i a paragone due giocatori sicuramente molto differenti in questo caso tutte e due i pagamenti valore transfer market e valore overall diventano assolutamente obbligatori e il vg di differenza deve essere valutato in 10 milioni quindi non c'è più la soglia da 5 a 10 ma in 10 milioni questo caso le trattative possono essere molto complicate perché ovviamente si potrebbe anche non facilmente raggiungere un accordo fra i due player perché la differenza di potenziale dei giocatori alle volte troppo elevata allora consiglio da parte di alessandro è quello anche di valutare molte volte il pagamento le compravendite cash ad esempio tutti compri il mio 76 magari ti faccio lo sconticino io mi compro il tuo vg 80 e tu magari puoi aggiungerci i più 5 della soglia atm questo molte volte agevola delle trattative che sembrano inizialmente complicate perché chi è in possesso come qui nell'esempio di un giocatore 82 tm 55 vuole cercare ovviamente di ricavare il massimo ok l'esempio che riportiamo è una differenza di 3 vg e 10 milioni di transfer market diventa obbligatorio il pagamento dei 10 milioni di transfer market diventa obbligatorio pagare ogni vg differenza quindi la trattativa sarebbe il vg 79 più 40 milioni delle due differenze per il giocatore 82 in tutte le trattative di scambio la cifra ricevuta nello scambio non potrà in nessun caso essere maggiore alla cifra che potrei ricevere vendendo il giocatore cash questo è molto importante perché lo spieghiamo perché tutto il regolamento degli scambi è stato proprio anche accuratamente studiato per non fare in modo di spendere cifre assurde o fare richieste assurde su dei valori ben definiti di ogni giocatore la base transfer market ovviamente per noi è fondamentale perché riconosce un valore di mercato abbastanza congruo onesto per poter fare in modo che le trattative abbiano un senso compiuto all'interno del nostro manageriale attenzione signori perché le nostre trattative devono essere chiuse al momento in cui vengono effettuate il pagamento di una trattativa non può essere posticipato bar anticipato anche se questa è una cosa che non succede mai quindi ad ogni sessione di mercato effettiva ogni player potrà spendere solamente entro le finanze in proprio possesso non sarà in nessun modo possibile dilazionare o realizzare i pagamenti della trattativa in corso in più sessioni questo perché perché ovviamente la sessione di mercato che abbiamo visto in un precedente tutorial dura all'incirca una settimana in quella settimana io sono in possesso di un determinato numero di finanze che dovrà poi essere anche messo al vaglio di alcune spese come il pagamento degli ingaggi investimenti manageriali non devo non posso spendere più di quello di cui sono in possesso ok altrimenti sarebbe banca rotta detto questo signori abbiamo visto insieme quali sono le tipologie di scambi di acquisti cash che possiamo fare all'interno dei nostri calcio mercato di loyalty manager abbiamo visto le soglie abbiamo visto gli obblighi e le situazioni facoltative da rispettare sul nostro regolamento troverete sempre la tabellina a vostra disposizione come va da emegum vi ringrazio per averci seguito vi invito ancora una volta a lasciare un mi piace e continuate a iscrivermi numerosi al prossimo video un saluto da Alessandro al prossimo video